E' sempre quel discorso che dicevo che alla fine godi di un valore quasi non monetizzabile che è l'ambiente che è intorno, l'atmosfera ed eccoci al Cantun da Giorgetta, andiamo a fare un po' di razzia dei formaggi. Questo è il Cantun Delight, almeno una volta a settimana per tutta l'estate faccio razzia dei formaggi di Giorgetta, tutta roba di produzione propria. E ti prenderei ancora questa metà di misto buco a pecorato. Ciao, grazie a te! Ciao! Ciao! Ce l'abbiamo fatta. Anche stavolta siamo riusciti a salire. E' stata come sempre, come quando piove. Ok, ora scalichiamo e apriamo il rifugio. Allora ragazzi, questo è un momento storico per il Rifugion Primo, che andremo ad aprire questa porta ora, per la prima volta, in teoria non si chiuderà più, perché da oggi in poi apriremo il rifugio sette giorni su sette. Intanto la prima cosa da vedere è se c'è corrente all'interno del locale. Et voilà! Benvenuti! Vediamo subito se c'è acqua. C'è anche acqua. Direi che al primo momento sorprese strane non ce ne sono. Molto, 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 molto bene. Come siamo, Aito? Annelli danno niente. Chiaro. Però stiamo consumando niente. Chiaro. E come accumulo? Con accumulo tipo 98% però 52V dalle batterie. Quindi siamo al 98%. No, è tanto il 98%, il telefono dovrebbe esserci. molto bene. Apriamo prima sotto, poi apro le camere. Sì, perché sì. Questa è la mia, diciamo, la mia suite. C'è un suite che poi è più ripostiglio e magazzino. Questa è casa mia per gran parte dell'anno. Sicuramente la vista non è... è invidiabile, insomma, non è male. Alla fine il problema era il fusibile. Non era lo starter. Infatti ho messo un conduttore al posto del fusibile, anche se insomma, vabbè, non si dovrebbe fare giusto per verificare. Giusto per trovare. Annevito. Come dice Davide? È tutto un grave but. È tutto un grave but. Prima but e poi tanto. Questi qua li prendo da un fornitore alimentare che si chiama Nicolas. Cuneo. Questo formaggio qui è frutto di un errore, ci ha detto Giorgia, del Cantum del Light. Praticamente avevano fatto questa tometta, si sono sbagliati, hanno messo troppo sale. L'hanno lasciato sei mesi a stagionare, che già solo per la stagionatura lo farei pagare il doppio. Ed è una bomba atomica. Noi proprio all'agricola facciamo una roba di sto tipo qua. Se vuoi ti dico quello che non mi piace di questo lavoro. Tipo buttare la spazzatura dopo la domenica. Quindi devi caricarli sul trattore, portarli giù, come abbiamo fatto stamattina, al contrario, poi caricare tutto sul fuoristrada. Primo perché è proprio brutto com'è cosa da fare e secondo ti rendi conto quanti rifiuti si fanno. Noi oggi abbiamo aperto il rifugio. Ci vorrà ancora un paio d'ore prima di finire tutti i lavori di riapertura, scaldarlo e tutto. È una giornata super ruggiosa, non sta passando nessuno. Noi di fatto stiamo lavorando, ma è come se fossimo, se avessimo un rifugio tutto per noi. Anzi, abbiamo un rifugio tutto per noi. I momenti belli sono quando i clienti sono contenti. Le cene, le cene con lo staff di sera dopo tre mesi di polenta e salsiccia. Se ne arriva su Davide o io con sushi per dire. Valgono più di mille stipendi delle cene del genere. Pecorino abruzzese, bianco molto buono. Il rimasuglio della festa di mio figlio. Ha fatto un anno mio figlio, quindi è stato un po' un alibi per far festa con lo staff e con gli amici. Adesso sull'acqua non so. Perché ottimizziamo l'efficienza energetica. Nel senso che scaldiamo la stufa e banalmente mettiamo su dei pentoloni d'acqua che possono sempre servire per qualsiasi cosa. Lavare i piatti. Se ci vogliamo fare una tisana. Se vogliamo poi usarlo per la pasta. C'è il satellite che sta sbaletando. Praticamente sta piovendo a dirotto. Abbiamo difficoltà ad avere la rete internet perché va via satellite. C'è la mocetta bovina e la mocetta suina. Ma la vera mocetta. Dei fare mu. Spec. Soppressa veneta perché il gestore ha la compagna veneta. Mocetta bovina. Formaggi del canton del light. Salumi sono quasi anche tutti locali. O comunque del cunese perché il nostro principale fornitore arriva un po' da lì. Mocetta bovina. Pagani. 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 Grazie a tutti.